3-9-4 in pillole La riforma della 3-9-4 introdurrebbe un cambiamento sostanziale e vantaggioso per la gestione e la salvaguardia delle aree protette. Ecco cosa cambierebbe. Gestione della fauna asilvatica, le specie aliene. Nella legge ante riforma, le specie aliene non erano considerate, nonostante l'Unione internazionale per la conservazione della natura, le individui come la seconda causa per perdita di biodiversità nel mondo. La riforma prevede che specifici piani, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, siano finalizzati all'eredicazione o al contenimento delle specie aliene, coerentemente con le disposizioni del Regolamento 1143-2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuteliamo la biodiversità.